Stasera ci sarà la rappresentazione di un'importante opera lirica di Puccini, di Giacomo Puccini con Sor Angelica e Gianni Schicchi, sono due opere. Chi li porterà in scena sono i Mediterranea Opera Studio, il cui coordinatore è Jack Livigny che abbiamo già conosciuto lo scorso anno. Ci sono cantanti professionisti e cantanti che invece sono formati da questa scuola e questa sera sarà sicuramente un evento straordinario. L'ingresso è gratuito, è libero, sicuramente sarà un'occasione unica e irripetibile. Quindi l'invito a tutti i cittadini è fermo, è veramente importante. Lo spettacolo sarà rappresentato a partire dalle 20.30. In preparazione, speriamo di poterlo fare, ma daremo presto conferma se ci riusciamo, la traviata. La traviata che in questo caso sarebbe e potrebbe essere rappresentata all'interno delle mura timore ontem. Un grande evento culturale, gratuito per tutta la città. L'estate è già partita dal 24 luglio, abbiamo fatto già il primo evento alla chiesa di Bethlehem, Santa Maria di Bethlehem, con uno spettacolo del Teatro Andidoto. Sono partiti altri spettacoli effettuati dall'Associazione Navarra, dai Benedettini. Ma la parte clou dell'estate verrà presentata giovedì, in cui ci sarà tutto il calendario degli eventi, che spaziano da musica, dal vivo, a altre attività culturali, anche sul lungomare di Gera. Tutta la città sarà coinvolta nell'estate, abbiamo cercato di fare più di 100 eventi nel corso dell'estate, che si concluderà il 25 settembre.